Il mio dito è l'uccellino. L'appoggio qui, scatta l'archetto. Praticamente le zampe dell'uccellino rimangono praticamente qua in mezzo, così. Ovviamente come puoi vedere è molto teso. Come si può vedere questa trappola ha già catturato diversi uccelli perché è tutta sporca di sangue in questa zona. Vabbè. Ma vabbè è in piscina. Guarda che giù, guarda che giù, guarda che giù. Guarda che giù. Anzi credo che sia un aiuto. La Katia mi dicono che sta trovando un casino di rado. Sì, anche la Katia mi sono già passato giù, passato giù, passato giù, passato giù. Questa è come finiscono le oceani. Passato giù, passato giù, passato giù, passato giù, passato giù. Passato giù, passato giù, passato giù. Grazie a tutti